Amiche e amici a voi tutti bentrovati per questa nuova puntata di Milano Trash che non si ferma mai nonostante l'estate, nonostante il caldo perché il degrado purtroppo è un denominatore comune delle zone di Milano oggi per esempio siamo nel municipio 3 che tra l'altro raramente andiamo a visitare vuoi perché il municipio 3 è una zona abbastanza scarna di rappresentanza che vuole far vedere i problemi e lo dico senza nessun tipo di remora dall'altra perché il municipio 3 è una zona piuttosto vasta che nasconde in maniera anche direi ottima le situazioni di disagio qui ci troviamo in via Sbodio in una delle tante aziende abbandonate e questa puntata di Milano Trash è un po' diversa dalle altre perché per una volta non cercheremo di mostrarvi gli sbandati, i tossici, gli spacciatori, no ma coloro che con una grandissima dignità hanno deciso di abitare all'interno di aziende abbandonate vuoi perché lo Stato è assente, vuoi perché il comune di Milano non gli ne frega niente se non quando deve fare le belle manifestazioni in piazza Duomo al grido di people non discriminate gli altri, non discriminate poi anche tutti quelli che non partecipano magari a queste marce e soprattutto cercheremo di farvi vedere come il privato, esattamente come il pubblico, se ne è fregato perché qui noi abbiamo anche stampato i documenti, abbiamo una serie di preventivi per come avrebbe potuto trasformarsi questa zona semplicemente con l'incoraggiamento del privato e soprattutto con il denaro dell'impresa e dell'accordata dell'impresa, invece è tutto fermo e vedremo all'interno di questo stabilimento cosa c'è dentro naturalmente al mio fianco innanzitutto c'è Teresa Schiavo Buongiorno Vladi, hai detto bene, nulla è cambiato, questo terreno che è un terreno dove all'interno ci sono dei fabbricati a destinazione mista, è un terreno di circa 4.000 metri quadri, per esattezza 3.900 metri quadri oggi secondo il nuovo piano regolatore questo terreno potrebbe cambiare anche destinazione d'uso potrebbe diventare a destinazione commerciale, destinazione alberghiera, terziaria però da 10-15 anni circa questo terreno e questi fabbricati sono completamente abbandonati ricordo che nel 2015 fu discussa e approvata nel municipio 3 che è a guida centro-sinistra quindi molto molto in sintonia con Palazzo Marino, fu discussa e approvata una mozione del consigliere Gianluca Boari di sgombero di questi fabbricati perché erano stati occupati abusivamente e sappiamo bene tutti che occupare abusivamente questi fabbricati a parte essere illegale è anche molto pericoloso per chi li occupa perché sono a rischio crollo, perché sono decadenti, perché sono fatiscenti dal 2015 dopo lo sgombero qui il comune non si è più visto, non è pervenuto ora noi cercheremo di capire insieme allo staff di Milano Trash come sono andate le cose e che cosa si potrebbe fare per migliorare questa situazione e quindi riuscire a vendere questi fabbricati e riuscire a dare loro una destinazione valida, una destinazione con un uso socialmente utile Esatto, la squadra di Milano Trash che ormai avete imparato a conoscere ed amare perché? Perché c'è Chiara Perazzi, benvenuta Ciao a tutti Benvenuta a Virginia Testoni Buongiorno a tutti Naturalmente il benvenuto ad Antonio Simone di Italia Victris e all'inossidabile Maurizio Noi adesso stiamo per entrare, seguiteci perché ci vorrebbero io credo almeno 4-5 puntate per visitarlo tutto quindi cercheremo di fare una sintesi dello scempio, del degrado e come vi ho detto all'inizio del desiderio di riscatto delle persone che ci abitano Pochi passi davvero e ci accoglie questa montagna di rifiuti non soltanto plastici ma direi di tutto, bottiglie, stracci, feci e urine Allora mi spiace chiedere ad una signora e che signora? La signora della TV regionale, Taris Chiavo perché abbiamo deciso di fermarci qui? Perché questo è il primo segno non solo dell'occupazione ma del fatto che qui all'interno le categorie sono due le persone che cercano semplicemente un tetto e le persone che invece sporcano e abbruttiscono tutto Esattamente, a me non spiace mostrare quello che Milano Trash Upgrade mostra perché è la Milano che l'amministrazione comunale si ostina a non farvi vedere si ostina a non voler far conoscere Questa è la Milano all'altra velocità, non è quella Milano che va forte quella Milano che aspira alle Olimpiadi del 2026 Questa è la Milano degli invisibili Qui dentro ci sono persone che meritano rispetto e che meriterebbero un supporto dai servizi sociali un tetto sopra la testa e quindi un aiuto concreto dal Comune di Milano ma sono costretti a vivere qui dentro Questo, come abbiamo detto, è un terreno con diversi fabbricati un terreno che meriterebbe rispetto, quindi meriterebbe anche un sostegno da parte del Comune di Milano Certo, è un terreno di proprietà privata ma è un terreno che in 15 anni ancora non è stato venduto Allora, il Comune dovrebbe responsabilizzarsi e responsabilizzare per capire perché questi terreni vengono lasciati e abbandonati a se stessi non riescono ad essere venduti e diventano purtroppo ricettacolo di sversamenti di ogni tipo presumibilmente anche tossici perché c'è un tamfo che voi dall'immagine non riuscite a vedere ma noi vi assicuro lo sentiamo è terreno dove gli invisibili trovano un tetto sopra la testa ma un tetto che è pericolante quindi io ricordo che anche questo è Milano io ricordo che anche qui nel Municipio 3 a guida centro-sinistra ci sono gli invisibili e ci sono stabili pericolanti con proprietà private che devono essere vendute e il Comune e il Sindaco sono responsabili di quanto accade a Milano anche nelle periferie, non solo in centro tra l'altro siccome anche se io frequento poco i corridoi sacri del potere mi riferiscono di frasi strane soprattutto del Sindaco, della Giunta che dicono cari miei ragazzi però Milano è una metropoli e quindi qualche caso si può trovare ragazzi sono tre anni che Milano trae i suoi avanti settimanalmente a documentare quello che esiste cioè ormai è una metastasi questa sì, è pericolosa e si espande si espande sempre di più è proprio come un cancro perché se nessuno interviene se l'amministrazione comunale non decide di intervenire questo problema dilagherà e prenderà tutta la città ora come ho detto all'inizio il consigliere Lega Gianluca Boari nel 2015 presentò una mozione che venne approvata ma dal 2015 ad oggi che cosa ha fatto il Comune di Milano per risolvere questo che effettivamente come vedete non è stato risolto che cosa ha fatto per tutelare, aiutare e sostenere le persone che oggi vedremo e che vivono qui dentro la domanda di Milano 3 c'è la domanda che si pongono i cittadini ed è una domanda alla quale il sindaco Beppe Sala e la sua giunta dovrebbero dare una risposta e infatti una persona non dico portavoce però comunque in rappresentanza degli occupanti la vedo da qua ci sta aspettando andiamo a conoscerla come vi dicevo abbiamo conosciuto una ragazza che abita qui all'interno evitate commenti stupidi del tipo eh vabbè se abita lì dentro chissà cosa fa o no ma non ha mica paura di dirci le cose come stanno anche perché credo soprattutto ad alti livelli che il più pulito abbia la scabbia quindi evitate di venire a romperci i maroni dicendo appoggi che intervista e intervistiamo le persone della strada cioè le persone che in questo degrado purtroppo devono viverci come ti chiami? io mi chiamo Pio da dove vieni? vengo da Brasile dal Brasile sei arrivata quanti anni fa in Italia? 9 anni che sono qui ok posso chiederti qual è il tuo lavoro? mio lavoro è un lavoro privato io sono un lavoro in strada perché nessuno dà un lavoro giusto a una persona estracomunitaria senza documento nessuno dà un lavoro in Italia quindi tu sei un escort? sì possiamo dire che sì un lavoro di escort cioè anche in questo caso no? quanta ipocrisia tiene compagnia alle persone uno dei lavori credo il lavoro più vecchio della storia del mondo e quante persone abbiamo conosciuto in Milano Trash però io voglio ringraziare questa ragazza perché ci sta mettendo la faccia e tu hai un sogno sì io volevo che qualcuno italiano mi desse un lavoro giusto per mi regolarizzare in Italia perché io non voglio vivere una vita così perché io penso che il problema adesso in Italia non è tanta immigrazione il problema è l'opportunità di lavoro l'opportunità di conoscere una persona con la sua capacità di lavorare io quando sono venuto in Italia sono venuto per aiutare a mia madre perché mia madre in Brasile lavorava con tavola in testa io lavoro da 9 anni e lavoro per me è troppo difficile perché io sono poco come si vede se è un corpo afferminato sono un po' delicato ma lavoro si vede sempre in strada come che io non sono solo per strada io posso lavorare come badante come moratore guarda bambini quello che vuoi posso fare io so penso che sia un'opportunità di lavoro a qualcuno italiano che vede questi video che per me non è una vergogna tanto abitare qua perché non è solo io che abito qui c'è anche italiano che dorme in macchina in stazione perché si può trovare un lavoro in Italia tutti però non si dà una busta paga e è difficile trovare una casa senza busta paga allora si lavora in ero certo in quanti siete qui dentro? 15 15 persone e ognuno vive un po' la giornata sì tutti esce per fare qualcosa per lavorare c'è gente che lavora normale che non lavora in strada come io però come ho detto prima non c'è una busta paga e senza una busta paga non puoi prendere una casa per questo abita gente in macchina con bambini come ho detto prima la tua mamma è ancora viva? no è morta nel 2012 in Brasile oggi è stato come vedi qui ma tu non sei potuto neanche andare a casa non ho avuto soldi neanche per tornare lì allora questa è anche la risposta a quelli che continuano a sostenere che Milano è razzista ma no assolutamente no Milano è apertissima soprattutto Milano è allergica alle persone che con l'antifascismo l'antirazzismo le solite robe trite e ritrite ci hanno fatto una carriera perché c'è gente che non ha mai lavorato un giorno fanno l'assessore poi fanno il parlamentare poi fanno il ministro poi fanno l'eurodeputato avessero lavorato un giorno no? eh no perché si riempiono la pancia di stupidaggini come appunto la marcia contro la discriminazione cominciamo a aiutare veramente le persone non brasiliane nigeriane ganese o italiane le persone quelle che ci vogliono davvero mettere la faccia e faticare allora io ti auguro ogni bene so che tu hai fatto un appartamentino dentro ce lo mostri? si eccetto va a venire con me ok ti seguiamo musica buongiorci Con Chiara Perazzi siamo saliti insieme agli altri ragazzi al piano di sopra perché qui voi non ci crederete ma abbiamo trovato l'occupazione abusiva che tenta più di ogni altra volta di essere normalità cioè camere da letto, vestiti, giubbotti, addirittura c'è l'angolo palestra con tanto di ciclette, di vogatore, di pesi e anche questo è un segno inequivocabile cioè sì ok la mia vita sta andando male, vivo in una fabbrica abbandonata però cerco di mantenermi in forma, è così Chiara? Sì la cosa interessante è che noi qui abbiamo scoperto che gli abitanti hanno comprato dei generatori quindi non si sono attaccati alla corrente pubblica Cosa che invece fanno regolarmente alcuni altri per esempio in Roma come abbiamo visto a Mecenate Sì io mi sono stupita di questo perché appunto c'è un tentativo di darsi una regolarità, di darsi una quotidianità e la cosa interessante è che queste persone comunque hanno tutte un lavoro, sono quelli che nel modo diciamo di dire dell'urbanistica si chiamano i working poor, cioè le persone che si concentrano nella metropoli che lavorano ma che purtroppo non riescono con il lavoro che hanno ad avere appunto una vita da classe media, cioè ad avere un appartamento, una casa perché ormai a Milano la classe media non può esistere, è difficilissimo supportare la propria vita perché il costo della vita è aumentato tanto Infatti qui abbiamo trovato e ci ha parlato un'amica di origini brasiliane però sappiamo che ci sono anche italiani Tutti tra l'altro piuttosto giovani, segno anche qui che sono persone che fondamentalmente hanno tentato hanno tentato di avere un lavoro regolare, di prendersi una casa a livello di affitto regolare non ci sono riusciti Allora a questo punto i servizi sociali, perché noi spesso facciamo polemiche? Perché non esistono solamente i profughi, non esistono solamente i richiedenti asilo Esistono quelli che pur essendo stranieri o addirittura italiani hanno troppa dignità per andare a inginocchiarsi e dicono vabbè allora a questo punto me la vedo io, cerco di darmi io una copertura, un tetto cerco di farmi un letto e cerco pure di lavorare Credi che a questo punto per Milano è la prima volta che lo sostengo ma credo che a questo punto sia inriviabile come discorso che sia necessario una sorta di moratoria della povertà perché qui si sta diffondendo in maniera capillare Sì, intanto dobbiamo ringraziare appunto la civiltà delle persone che abitano in questo posto perché qui non c'è un racket degli alloggi qui le persone da quello che abbiamo visto, da quello che percepiamo vivono abbastanza in armonia tra di loro però appunto è sempre il singolo, il cittadino, l'interazione umana che fa la differenza perché purtroppo il supporto del sociale e del comune è latitante e quello che a noi atterrisce è anche il fatto che il comune negli ultimi anni invece di fare quello che dovrebbe, cioè stimolare il privato a recuperare i propri beni a metterli in sicurezza oppure a venderli non lo fa e addirittura in questo chiude gli occhi perché non vuole affrontare, non vuole gestire i problemi sociali conseguenti come appunto affrontare il fatto di dover dare un tetto e di gestire i problemi di queste persone noi voglio anche far presente una cosa abbiamo una relazione della proprietà appunto che ha fatto fare delle perizie perché aveva, diciamo sta cercando di mettere l'immobile sul mercato e c'è un progetto per fare 40 appartamenti una ventina di box e altrettanti posti auto questo progetto al di là del valore di mercato della fattibilità o meno ha un punto importante che io vorrei sottolineare perché vengono, non so se si vede l'immagine dopo vengono diciamo previsti circa 600.000 euro di oneri comunali questi sono i cosiddetti oneri di urbanizzazione bene, gli oneri di urbanizzazione cosa sono? sono dei soldi che quando si costruisce una grande cosa quindi non il singolo appartamento ma un complesso di palazzi un'azienda, bisogna dare il comune perché si cambia la viabilità piuttosto che comunque si crea una modifica nella struttura urbanistica e quindi si chiede, il comune potrebbe con questi 600.000 euro ad esempio costruire, far fare un parco sistemare dei marciapiedi, insomma utilizzare all'interno della zona o all'interno comunque del comune di Milano quindi noi per questa incuria e questa mala gestione e questa non sorveglianza anche del patrimonio privato paghiamo dei costi sociali e dei costi vivi dei costi in termini di mancato guadagno del comune Maurizio come sapete è il nostro esperto di costruzioni perché ha lavorato una vita in Italia e all'estero proprio realizzando grandi impianti di edilizia sia pubblica che privata quella che vediamo affacciandoci alle finestre è di fatto un'enorme area industriale dismessa archeologia industriale possibile che a Milano si costruisca sempre del nuovo senza mai riqualificare il vecchio? questo qua è da collegarsi anche a quello che è la vera ragione di vita cioè i soldi ricuperare una situazione un pregressa comporta utilizzare situazioni di risanamento di bonifica di confisca di stabilizzazione per cui conviene sempre in base al quotidiano utilizzare aree nuove con le conseguenze che ormai stiamo vivendo questa archeologia industriale ricorda soprattutto lo spirito dei nostri delle persone dei nostri predecessori dei nostri avi che si sono industrializzati per poter permettere di vivere una vita giata vita che non so quanto potrà resistere ancora se andiamo con questo consumo di territorio di tutto quello che ne consegue Virginia hai notato come a Milano ormai ci sono quei due o tre problemi che vengono cavalcati come sempre quattro ganesi barra nigeriana in stazione che spacciano che spacciano che spacciano no perché così almeno cerchiamo di dare un nome un cognome alle cose poi ci sono che ne so le occupazioni degli zingari ah ma non si possono chiamare zingari il problema è vostro perché loro ci dicono loro noi siamo zingari quindi pensate insomma alla fine al di là delle polemiche due o tre problemi tutto il resto non esiste noi ci occupiamo da tre anni di quelli che non esistono sì effettivamente è proprio così c'è Vladimiro purtroppo è una situazione che stiamo continuando a vedere e pian piano che andiamo avanti stiamo trovando proprio veramente situazioni disastrose ma perché dobbiamo ottenere la nostra Milano così cioè non esiste solo il centro esiste anche la periferia non capisco puoi trovare qui delle persone che con dignità anche se le immagini possono sembrare di no però con dignità cercano veramente di fare una vita normale di andare avanti sì è vero lavorano in nero però comunque cercano di fare qualcosa di migliorarsi e naturalmente c'è questo enorme balcone dico naturalmente perché è tipico delle costruzioni che abbiamo visto in questi anni grande occupazione del primo piano del piano terra ma anche enormi balconi che una volta evidentemente servivano all'azienda per poter esporre forse dei macchinari forse una sorta di campionario oggi naturalmente è tutto abbandonato però intorno intorno a noi ci sono ancora aziende e addirittura palazzi che sono abitati regolarmente quindi questo è un problema ancora una volta di bomba ecologica sanitaria perché è vero che ospita persone che sono alla ricerca di rimettere in piedi la propria vita però c'è anche molto sporco sì c'è c'è molto sporco e soprattutto c'è uno sporco che dura da parecchio tempo ci sono disinteressati di tenerlo quantomeno pulito decentemente qui come hai visto vivono delle persone che hanno la dignità di lavorare non creano problemi nella zona si alzano al mattino alle sette e mezza alle otto e rientrano la sera il pomeriggio tardi scavalcando il cancello quindi una persona per andare a dormire o per uscire a lavorare è obbligata a scavalcare un cancello non esce normalmente come tutti quanti noi dalla porta perché perché l'amministrazione o i soliti fautori della santificazione non sono altro che i i predicatori della religione del 27 del mese che aspettano lo stipendio fregandosi della situazione altrui allora qui c'è gente abbiamo incontrato persone dignitose persone assolutamente disponibili persone pacifiche che ci hanno accolto con massima tranquillità disposte a farsi intervistare molti sono comunitari ci sono anche italiani quindi hanno il permesso di soggiorno i comunitari possono stare tranquillamente in Italia e hanno anche delle professioni abbastanza interessanti c'è una fa le sabbiature un altro fa l'intergalatore cioè hanno volendo soltanto che non avendo una busta paga non riescono a trovare un lavoro un lavoro fisso il loro problema che molti avevano anche una casa anzi uno di questi ragazzi penso che per due o tre giorni andrà a riabitare in un appartamento il proprietario di Papi il cagnolino che abbiamo visto in giro prima con quello che guadagnano 6-700 euro al mese non riescono a pagarsi un affitto perché non riescono ad avere un contratto non avendo una busta paga lavorano in nero distribuiscono i volantini in nero fanno dei lavori in nero e quindi hanno difficoltà a trovare un appartamento e vivono in queste condizioni che quantomeno non si chiede uno sforzo sovraumano che venga ripulito per non farli vivere in questo inferno in questa immondizia in questa conclamata sporcizia che provoca infezioni e quant'altro è un atto di umanità come diceva un famoso personaggio che non voglio nominare anche se io ho in grande considerazione bisogna essere duri senza perdere la tenerezza in questo caso loro fanno finta di avere la tenerezza ma sono duri e spietati verso queste persone che dicono di volere aiutare e invece non le aiutano affatto Siamo in chiusura anche di questa nuova puntata di Milano Trash che vi ha mostrato sì il degrado sì l'abbandono sì l'assenza totale delle istituzioni e anche del privato ma vi ha voluto mostrare anche più che fondamentalmente è una ragazza sola sola perché non ha parenti non ha familiari qui in Italia che cerca di sbarcare il lunario che non ha avuto la minima vergogna a dire che fa la vita fa la escort ma che vorrebbe tanto un lavoro normale poter avere la sua casa casettina il suo appartamentino la sua stanza pulita che non sia occupata abusivamente poterla pagare ce ne fossero ce ne fossero di persone così quindi grazie mille più in bocca al lupo grazie a voi per venire qui e grazie a tutti per avere pazienza perché è un progetto bello veramente questo e la tua frase che tu hai visto la presenza di Dio oggi ci fa onore e credimi da cristiano anche se molto indegno però da cristiano anch'io spero sempre e confido sempre in Dio grazie mille ad Antonio Simone grazie al nostro amico Maurizio grazie a Chiara e a Virginia Chiara l'auspicio qual è adesso? L'auspicio è che il comune faccia in modo che il privato agisca per il recupero del bene lo metta in sicurezza e che queste persone vengono aiutate appunto dai famosi e tanto pubblicizzati servizi sociali del comune di Milano e l'appuntamento con Milano Trash è come sempre per la settimana prossima a voi tutti grazie grazie a tutti